e l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel gran tino dell'ira di dio e il tino fu calcato fuori della città ed al tino uscì del sangue che sino ai freni dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Apocalisse capitolo 14 versi 19 e 20 Nessun dubbio qui che si tratti del giudizio sui ribelli poiché sono non soltanto recisi come i grappoli ma gettati nel tino dell'ira e ivi calcati come si soleva fare dell'uva per estrarne il mosto. In Apocalisse 19 e 15 il re dei re viene rappresentato come calcante il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente iddio. I nemici sono non soltanto vinti ma devono subir la pena inflitta loro dalla giustizia di dio. La città fuori della quale è eseguito il giudizio non può essere che la Gerusalemme ideale, la capitale del regno di dio, l'asilo dei salvati, la città di dio chiamata in Apocalisse 29 il campo dei santi, la città di Letta. In Gioele 3 la descrizione del giudizio delle nazioni fuori di Sion, il monte santo dell'eterno. Come dal tino delle uve esce il mosto così dal tino dell'ira esce il sangue dei nemici di dio. Il giudizio su loro è raffigurato in Apocalisse 16 14 19 18 fino a 21 come una battaglia, una strage immane. Isaia 63 versi da 1 a 6 ha una descrizione drammatica dell'azione punitiva dell'eterno sui popoli nemici. Egli appare in vestimenti splendidi e il profeta perché questo rosso del tuo manto? Io sono stato solo a calcar l'uva nello strettoio, io li ho calcati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue spruzzato sulle mie vesti, ho calpestato dei popoli nella mia ira e ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. La profondità e l'estensione del mar di sangue servono a rappresentare l'immensa estensione ed il carattere terribile del giudizio di dio. Lo stadio equivaleva a 185 metri, 1600 stadi fanno 296 chilometri, cifra che dagli uni si ritiene come accennante alla lunghezza approssimativa della Palestina secondo un'indicazione di Gerolamo che però darebbe soltanto 1280 stadi. Dagli altri si considera come il quadrato di 40 che conterebbe l'idea di completezza.